Gossip Spy Gossip Spy da uomini e donne clamoroso, Valeria Marini sul trono over Gossip Spy, Valeria Marini prossima tronista. Gossip Spy, da qualche ora impazza sul web una vera e propria chicca di gossip che, se confermata, sarebbe davvero una bomba mediatica. Valeria Marini, infatti, potrebbe essere una delle prossime troniste di uomini e donne. . È stato il settimanale di Gossip Spy a diffondere la notizia che è davvero del clamoroso. La showgirl Valeria Marini, single da un anno, potrebbe essere stata elegantemente invitata al programma, dedicandole un trono speciale per una tronista VIP. Valeria Marini potrebbe così finalmente poter trovare lamore grazie a Maria De Filippi? Ricordiamo che ad uomini e donne non sarebbe la prima volta che un VIP sale sul trono, già nel 2003 altri due VIP parteciparono al People Show, stiamo parlando di Giorgio Mastrota e Cristina Plevani. I due, però, non furono molto fortunati. . Valeria Marini cercherà lamore a uomini e donne?. Gossip Spy, quando si parla di Valeria Marini il condizionale è dobbligo. . Dopo la fine con Vittorio Cecchigori e lannullamento del matrimonio con Giovanni Cottone, la bella Valeria Marini ha collezionato soltanto amori sbagliati e flirt presunti. . Così potrebbe essere questa l'occasione per la showgirl, reduce da una serie di successivi televisivi e teatrali, oltre a quelli come imprenditrice, di trovare finalmente il vero amore grazie a Maria De Filippi e alla sua esperto team nel selezionare i pretendenti. . Chissà magari la Marina accetterà la proposta e potrebbe scoppiare la passione. . Uomini e donne anticipazioni lunedì prossimo. Uomini e donne come sappiamo si ferma il weekend. . Dopo il trono over, la nuova puntata del People Show sarà trasmessa lunedì 23 ottobre 2017, come di consueto su Canale 5, e stando alle anticipazioni, sarà il turno del trono classico. . Ma cosa ci sarà di nuovo all'orizzonte? Aspettando di sapere se Valeria Marini abbia o meno ha consentito a diventare tronista, vediamo cosa ci aspetta lunedì. . Entrano i tronisti e le troniste, i corteggiatori e le corteggiatrici e non mancano gli opinionisti. . Accanto a Tina c'è Mario, ex corteggiatore ed ex fidanzato del tronista Claudio. . . La prima al centro dell'attenzione sarà Sabrina Ghio, vedremo un rvm riguardante la scorsa puntata, poi l'esterna con Nicolo R. . 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 Maria concede loro un ballo, ma Leonardo decide per lasciare. . Poi è la volta dell'esterna con Fabrizio di cui Sabrina dice di essere stata bene. . 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 Grazie a tutti.